No, me lo leggo. Attenzione, siamo nel deserto. Pronti? Basta, basta. Sei scema, quella di sotto? Non so, basta. No, vado apposta. Così, vedi fuori. Vai, di là? Vai, di là? Sì, sì, è proprio una cosa lì. Una non vanno, due non vanno. No, tutto è spesso. Nose to nose. No, ma guardate lì, continuamente. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Lei è un tempo, ha delle mele. Che sta ancora andando? Sono recognized perché all'idea della mia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.